Finanza.com è all'efforzamento in 2015 con Simona Brugiano, Sales Manager di Raffaizen Capital Management. Buongiorno Simona. Buongiorno. Siamo in un evento dedicato alla formazione dei professionisti della consulenza finanziaria. Qual è l'approccio di Raffaizen nei confronti della formazione delle vostre reti distributive? Diciamo che Raffaizen è sempre stato molto attivo nella formazione sia sui mercati che i prodotti. In questo particolare momento stiamo puntando molto sui social. Abbiamo sviluppato infatti i nostri account su YouTube, su Google+, su LinkedIn e su Facebook. Nelle ultime settimane abbiamo notato un aumento della volatilità sui mercati obbligazionari. Alla luce di questi eventi qual è il vostro scenario sui mercati? Diciamo che noi ci aspettiamo che questa volatilità continuerà per i prossimi mesi. In ambito obbligazionario siamo particolarmente prudenti e prediligiamo i prodotti cosiddetti a spread. Siamo tuttora positivi in ambito azionario anche se con prudenza per i prossimi mesi. Nello scenario che ci ha illustrato, quali sono i prodotti della vostra gamma che sono più indicati per gli investitori italiani? Per fronteggiare questo particolare contesto di volatilità sul mercato, Raffaizen ha messo a disposizione due fondi flessibili. Uno prevalentemente obbligazionario è il fondo conservative che distribuisce anche una cedola volendo mensile. L'altro invece è un fondo bilanciato però prudente per chi vuole investire in parte in ambito anche azionario ma con strategie prudenti e con protezione. Simona ti ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie a voi, alla prossima.